Benvenuti all'addestramento draghi! Oggi imparerete a combattere i draghi! Dolore. Lo adoro. Cominciamo! Devi passare da me ad allenarti! Mi sembri una che si allena! E così siamo solo io e te, eh? No, solo te! Concentrati, capo! Posso passare alla classe dei vichinghi fichi? Oh! Qualcuno ha mai provato ad addestrare un drago? Nessuno è sopravvissuto per raccontarlo! Sta tranquillo. Non voglio farti del male. Vediamo se così funziona. Adesso andiamo piano, piano. Avanti, bello! Avanti, bello! Sì! Sta giù! Tranquilla, lo spaventi! Io spavento lui! Tutto quello che sappiamo di loro è sbagliato. Ora ti faccio vedere. O li sterminiamo noi, o ci stermineranno loro. Fuoco! Non li dobbiamo combattere! Vai, piccolo! In qualunque modo finisca. Finirà oggi. Che pensi di fare? Qualche pazzia. Ci sto! Anch'io! Segna anche me! Io adoro questo piano. Vai! Da Dreamworks Dragon Trainer. Ma è grande come il mio... Le matrimine di nasa! In 3D.